Il diamante più splendente di Swarovski Belen Rodriguez, è lei il diamante più splendente di Swarovski Sensuale e unica in ogni occasione, Belen Rodriguez ha deciso di incantare il suo pubblico, partecipando al party organizzato dal celebre brand Swarovski con indosso un outfit da vera star Un micro abito luminoso, perfetto per valorizzare le forme del suo corpo, fornito proprio dallo stesso brand, la showgirl ha postato alcune foto della serata sul suo profilo Instagram e i fan sono andati in visibilio, riempiendola di like e di commenti di apprezzamento Belen Rodriguez, è lei il diamante più prezioso Un micro abito luccicante, sulle tonalità verde acqua, perfetto per valorizzare il fisico slanciato e scolpito della showgirl argentina, Belen Rodriguez è apparsa al massimo della forma, conquistando i presenti con il suo outfit super sexy All'inaugurazione della settimana della moda milanese infatti anche Swarovski ha voluto creare un evento complementare alla sfilate che hanno avuto luogo sulle passerelle di Milano e Belen è stata la regina di bellezza La web influencer di origini argentina ha iniziato a collaborare con il noto brand alcuni mesi fa, volando persino a Los Angeles per partecipare ad un importante shooting fotografico La collaborazione si sta rivelando molto proficua e la Rodriguez non perde occasione per condividere con i suoi oltre 6 milioni di fan tutte le ultime novità della sua vita privata e professionale La foto, postata sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha riscosso un successo strepitoso con oltre 200 mila like e migliaia di commenti di apprezzamento e sostegno da parte del pubblico, sempre pronto a complimentarsi con la showgirl per i numerosi traguardi raggiunti Belen sta vivendo un momento davvero positivo per la sua carriera, oltre al lavoro di presentatrice infatti ha iniziato ad essere una delle testimonial più richieste del momento, sia per la sua innegabile bellezza, sia per il suo seguito senza pari sui social network La Rodriguez ha dimostrato di saper essere una delle trendsetter e web influencer più seguite del momento, raccogliendo intorno a sé un pubblico sia maschile che femminile, molto interessato a ricevere i suoi consigli di stile e di bellezza Belen, 33 anni vissuti al top Poche settimane fa, la star della televisione italiana ha festeggiato con gli amici più cari e i familiari il suo trentatreesimo compleanno, il passare del tempo però sembra non scalfire affatto la sua bellezza e la sua luminosità, anzi Belen Rodriguez appare più bella e radiosa che mai, merito forse della sua serenità sentimentale, raggiunta dopo un lungo periodo di crisi grazie allincontro con Andrea Iannone I rapporti con il suo ex Stefano De Martino sembrano essersi appianati e i due si vedono spesso per il bene del loro adorato figlio Santiago, come in occasione del suo primo giorno di scuola Una vita da vera star, vissuta senza mai rinunciare allaffetto della sua famiglia e in particolare del suo adorato bambino, con il quale la showgirl cerca di trascorrere ogni momento libero della sua quotidianità Donna, mamma, fidanzata, Belen Rodriguez possiede il segreto del successo e lo sfoggia con una grazia audace ed irresistibile Donna, mamma, fidanzata, Belen Rodriguez e il quale la sua famiglia